La festa dei candelieri che si svolge a Sassari il 14 agosto nasce come compimento di un voto alla Madonna Assunta per la cessazione di una pestilenza avvenuta il 14 agosto 1580. Essa consiste nella sfilata di nove candelieri rappresentanti altrettanti gremi, le antiche corporazioni di mestiere, piccapietre, falegnami, ortolani, calzolai, sarti, muratori, viandanti, contadini e massai. Quelli che erano una volta enormi ceri da molto tempo sono stati sostituiti da colonne di legno del peso di diversi quintali, fissate ciascuna su una base fornita di stanghe per gli otto portatori. Ogni candeliere reca un'immagine del santo protettore della relativa corporazione ed è fastosamente decorato con una profusione di fiori e scialli colorati. Al capitello sono fissati dei nastri multicolori che vengono tenuti tesi da alcuni ragazzini. La discesa dei candelieri parte da piazza Castello, raggiunge il municipio e si conclude nella chiesa di Santa Maria di Bethlehem. I portatori dei candelieri camminano a un passo ritmato da un piffero e da un tamburo e a intervalli fanno ondeggiare il loro carico in una sorta di danza. Una funzione particolare all'interno della cerimonia è demandata dal gremio De Massai un tempo la classe economica più importante. Si incontrano con il sindaco il quale consegna loro la bandiera della corporazione fino a quel momento esposta nel municipio insieme a quella della città ed entrano per primi nella chiesa di Santa Maria per l'offerta alla Madonna.